Oggi per la prima volta nella stagione capitolo 3 andiamo in risa a squadre Raga, prima di andare in risa a squadre andiamo ad aprire un regalo che dovrebbe essere quello dell'ottavo giorno nel clavano di mezz'inverno Ok, allora prendiamoci l'ottavo giorno, apri il regalo, ho visto che qualcuno dava la schiena e prendiamoci uno di questi, anche al random, questo qua è quello rosa Mi pare che ho preso questo rosa, per chi mi ricorda esatto che c'era una scia, quindi ho voluto prendere apposta questo qua Da Sergente Bruma La scia dovrebbe essere questa qua, è bellissima, però meglio di niente Raga, vi ricordo che in descrizione trovate Instagram, TikTok, Twitch e anche Discord, perché mi sono aperto Discord Mi raccomando, raga, affrettatevi di entrare perché dopo Natale lo metterò agli abbonati Se volete sempre entrare, però dovete farmi un abbonamento per scrivere Di un centesimo o due centesimi Comunque voi è detto su Discord, se volete su Instagram lo trovo in descrizione Oggi ho deciso di fare un video su Rista Squadra, perché non la facevo tipo dalla scorsa stagione Che mi impallavo di dito solo su Rista Squadra Adesso ho visto che poi sono ritornata, perché non rientriamo a fare video su Rista Squadra Perché devo fare anche... Guarda, aspettate... Cavana... tipo devo fare due o tre missioni del cavano di mezz'inverno, raga, quindi tiriamo bene Duca Oh, non c'è? Non ne metto questo ranzo Non ne metto? Non ne metto questo ranzo Non ne metto? Non ne metto Non ne metto Sì, non c'è un altro. Tuca. Guarda, perché gli sono saltati in culo a questo, rego. Vai, basta. Mi ha rotto con la spada, donna. Ma no. Sono un mostro del male di questa squadra. Ma no, dai, non c'è un altro. C'è un altro, dai. Sei mio spiderman. Sei mio spiderman. Ehi. Stai saluto nei merdi in merda. Eh, però nei merdi in merda. Che f***. Bravo. E mo? Ma nei merdi in merda che facciamoci. E allora ce l'ho più nei merdi. Tuca. Quanto c'è di vita. Tuca. Quanto c'è di vita. Tuca. Ho capito che ho aperto Nel box, ditto Tentuno, tentuno, diritto nel box Tentuno, tentuno, diritto nel box E non lì mai vado a scendere Injarma, che mi accampina Oh,יא, soggetto, le due fati dove faccio Scriame il cazzo che mi sembra di nema Non ci viene C'è quello che era fermo Raga GG GG bella vittoria